Ebbene sì, è finalmente pronto il nuovo videocorso del Dio del Bonsai. Nel nuovo videocorso ti insegno a mettere mano a un bonsai di acero tridente, questo qua, per trasformarlo in un vero bonsai di spessore. Il video ha un valore di 97€, però questo mese, e ti ripeto, solo questo mese, sarà dato a tutti i miei discepoli al prezzo di 0€. Se hai capito bene, sarà gratis per tutte quelle persone che faranno un acquisto sul mio sito claudiobonsai.com Attenzione perché a fine mese, ovvero il 31 dicembre, il video non sarà più disponibile neanche pagando, e soltanto quelli che avranno il link potranno vederselo tutte le volte che vogliono e soprattutto per sempre. Se ancora non mi conosci, io mi chiamo Claudio Bonsai e da oltre 5 anni sono il punto di riferimento in Italia nella coltivazione di bonsai. Clicca ora sul link e impara a mettere mano e a trasformare il tuo bonsai con successo.